Ciao a tutti, bentornati sul mio canale. Oggi video dedicato al sequel di Marmalade Boy, e cioè Marmalade Boy Little, manga in sette volumi di Wataru Yoshizumi che non ha avuto una trasposizione animata. La storia vede come protagonisti Rizuka Matsura e Sakuko Ishikawa, i figli dei genitori di Miki e Yu che si erano scambiati i rispettivi partner. Se ricordate alla fine della storia di Marmalade Boy veniva annunciato dalle due coppie che erano entrambe in attesa di un bambino. Attraverso le loro storie e le loro avventure scolastiche veniamo dunque a sapere tante cose dei personaggi che avevamo lasciato in Marmalade Boy. Rikka e Sakuko hanno circa 12 anni e frequentano le scuole medie. I due ragazzini hanno in comune due fratelli maggiori, Miki e Yu, ma tra loro non c'è legame di sangue. Per Rikka, Sakuko è un fratello a tutti gli effetti, anche se ha sempre avuto un po' di confusione fin da piccola su questa famiglia allargata, mentre Sakuko, che ha ben chiara la situazione, in cuor suo è segretamente innamorato della ragazza. Nella stessa scuola media c'è anche Aoi Namura, figlio di Meiko alias Mary, e di Namura, nato un anno dopo il loro matrimonio. Aoi infatti vive a Tokyo con i suoi nonni, i genitori di Meiko che per fortuna si sono riappacificati con la propria figlia. Se ricordate erano fortemente contrari al matrimonio della ragazza con Namura. Meiko e suo marito sono invece rimasti a Hiroshima e in particolare Meiko farà ogni tanto capolino nella nostra storia per salutare Michi e Ghinta, per esempio. Aoi è un bellissimo ragazzino, considerato fighissimo da tutte le ragazze della scuola, e ovviamente anche Rikka si prenderà una bella cotta per lui. Aoi però ha già una ragazza che di lì a poco lo lascerà. A quel punto Rikka gli sarà molto vicino e tra i due comincerà una tenera storia d'amore. Rikka e Aoi si scambieranno un dolce bacio proprio nella biblioteca, dove era sbocciato l'amore tra i genitori del ragazzo. Saku se ne starà in silenzio a guardare, sebbene anche lui piaccia a diverse ragazze della scuola. Intanto veniamo a sapere che Ghinta è diventato professore ed insegna proprio nella scuola media frequentata da Rikka e Saku. Sappiamo che si è sposato con Arimi quasi subito dopo l'università. Arimi purtroppo è sempre in viaggio per lavoro in Europa e il matrimonio con Ghinta non va troppo bene, sembra infatti che siano prossimi al divorzio. Arimi infatti ha inviato i documenti per il divorzio a Ghinta che non riesce a decidersi a firmarli. La storia di Miki e Yu invece prosegue a gonfie vele. Convivono da otto anni ma non si sono ancora sposati, non hanno figli e Yu lavora molto come architetto. Yu lavora nello stesso studio con Satoshi Miwa alias Steve che nel frattempo si è sposato con una collega ed ha avuto una bambina. Yu e Miki hanno un bellissimo rapporto con i loro fratellini. Rikka in particolare si confiderà molto con Miki soprattutto per quanto riguarda le problematiche d'amore. La storia tra Rikka e Aoi sembra procedere bene ma le attenzioni che Saku riserva a Rikka, il suo saperle essere vicino, il fatto che lui la conosca così bene farà maturare pian piano in Rikka la consapevolezza di sentimenti diversi da quelli fraterni. È una storia che nasce davvero in maniera naturale senza i drammi a cui eravamo abituati in Marmalade Boy. Aoi capisce pian piano che Rikka si sta legando sempre più a Saku e dal canto suo anche Saku conferma ad Aoi di voler molto bene a Rikka ma questo accade con estrema tranquillità quasi in maniera inconsapevole. La storia tra Aoi e Rikka va così sfumando e Rikka si troverà sempre più legata a Saku. Sarà in particolare proprio Aoi a lasciare Rikka dopo essersi accorto che alla ragazza in realtà piace Saku anche se come vi dicevo prima il tutto avviene con grande schiettezza e senza troppi problemi. Aoi e Saku avranno anche un confronto in biblioteca durante il quale Aoi ammetterà con Saku che per lui la partita non è ancora chiusa e che a lui Rikka piace ancora. Rikka si rende conto di provare qualcosa per Saku quando scopre che forse il ragazzo partirà per studiare al liceo di Kyoto. Rikka allora precipita in uno stato di malinconia e confusione che forse nemmeno si aspettava. Un giorno tornando a casa trova le famiglie riunite con Saku e Yu che stanno parlando dell'istituto di architettura di Kyoto. Rikka allora davanti a tutti scoppia in lacrime montando un dramma che non ha motivo di esistere poiché Saku insieme a Yu stava solo parlando di andare a visitare la scuola. Morta di vergogna per quello che è accaduto Rikka va a rentanarsi nella sua stanza e a quel punto Saku bossa alla sua porta. È il momento che Saku aspettava. Quelle lacrime sono la conferma che Rikka è innamorata di lui e così prendendo coraggio Saku bacia Rikka per la prima volta. In quante altre occasioni avrebbe voluto farlo? Senza nemmeno rendersene conto i due ragazzi cominceranno a frequentarsi. Ovviamente i genitori intuiscono qualcosa ma avendo già l'esperienza con Miki e Yu non ne fanno assolutamente un problema. Rikka e Saku vanno così insieme a Miki e Yu a visitare la città di Kyoto trascorrendo insieme una bellissima giornata. La coppia Rikka-Saku si dimostra fin da subito ben salda e consolidata sebbene siano solo alle medie. I due ragazzini si tengono per mano, escono insieme. Saku è sempre molto protettivo nei confronti di Rikka. È una storia dolce e tenera esattamente come deve essere una storia d'amore tra due ragazze di quell'età. Intanto Arimi è ritornata da Londra e chiarirà definitivamente l'equivoco con Guinta. La ragazza aveva inviato i documenti per il divorzio perché convinta che a Guinta la lontananza non stesse più bene. Arimi inoltre rassicura Guinta sul fatto che i suoi viaggi sono finiti e che dopo tre anni di lontananza è pronta finalmente a mettere su famiglia e ad essere una moglie presente. Di lì a poco nascerà il loro bambino Aruta ed eccoli qui come coppia felice e solida. Anche Yu e Miki convoleranno finalmente a nozze. Molto romantiche le tavole in cui Yu chiede alla sua Miki di sposarlo. Poco dopo Miki si scoprirà incinta e anche le tavole in cui Miki comunica a Yu di aspettare un bambino sono davvero dolcissime. Trascorrono ancora alcuni anni e ritroviamo Ricca sedicenne e Saco quindicenne. Ah dimenticavo di dire che Saco è un pochino più piccolo di Ricca. Insieme discutono del loro futuro. Saco vorrebbe studiare architettura a Kyoto ma ha deciso di rimanere a Tokyo per essere vicino a Ricca. In realtà anche Ricca sta pensando di studiare a Kyoto per diventare maestra d'asilo. E così i due ragazzi decidono subito dopo le superiori di sposarsi e di andare a vivere insieme e nel mentre frequenteranno l'università. Beh per essere così giovani hanno le idee piuttosto chiare. Intanto anche per Aoi Namura arriverà finalmente l'amore. Si metterà insieme a Rina Sasamiya, una cara amica di scuola di Ricca che dopo una relazione a distanza finita male si renderà conto di essere innamorata di Aoi che per tanto tempo ha saputo starle accanto e consolarla da buon amico. Nel frattempo la famiglia di Yu e Miki si è ulteriormente allargata. Ora hanno il piccolo Fu di un anno e mezzo e la piccola Cocona appena nata. E sorpresa delle sorprese anche Suzu alias Susi e Kei alias Alessandro sono ormai felicemente sposati. Lei super fotomodella, lui musicista affermato saranno una coppia davvero glamour ed eccoli qui con la piccola Rion appena nata. Ricca e Saku decidono così di parlare ai loro genitori e anche a Miki e Yu della loro decisione di sposarsi subito dopo le superiori. La scena è particolarmente divertente perché i ragazzi annunciano davanti a tutta la famiglia che devono dire una cosa importante e tutti li guardano dicendo ma questa scena l'abbiamo già vista 15 anni fa con Miki e Yu. E' ricca e Saku un po' seccati che concludono. Allora ci fate parlare? Beh devo dire che questa storia è tutto sommato piacevole anche se può sembrare ovviamente qualcosa di già visto. In effetti in questa famiglia sembra sia impossibile instaurare un normale rapporto fratello sorella in assenza di un legame di sangue. In ogni caso è stato bello ritrovare i personaggi di Marmalade Boy ormai cresciuti e pronti ad affrontare le problematiche della vita adulta. Ho trovato una Miki molto più matura e sicura di sé ed anche la stessa Arini sono riuscita ad apprezzarla maggiormente come personaggio. Meiko invece l'ho trovata molto più defilata e meno inserita nel gruppo visto il suo percorso molto differente essendosi sposata giovanissima ed avendo messo su famiglia 12 anni prima di tutti gli altri. Anche la storia di Rikka e Saku appare tutto sommato dolce e scorrevole perché presenta la leggerezza e la freschezza tipiche della loro età a differenza dei loro fratelli Miki e Yu che affrontavano qualunque situazione sempre con quest'ombra di dramma che aleggiava su di loro. Insomma un sequel che pur non contenendo chissà quali novità e colpi di scena fornisce il giusto sguardo sul futuro di personaggi a cui siamo stati tutti un po' legati e vedere che hanno messo su famiglia e sono felici è certamente una bella gratificazione. Bene io per oggi mi fermo qui e vi do come sempre appuntamento al prossimo video. Ciao!